Al Festival del Cinema, la valigia dell'attore alla Maddalena, torna protagonista l'attore Marco Giallini. L'inviata è Miriam Mauti. L'Italia degli anni di piombo e la generazione che l'ha seguita. È il soggetto di Dopo la guerra, il film che è stato presentato ieri sera alla valigia dell'attore. Alla presenza della regista Narita Zambrano, per lei anche il premio del pubblico del Cagliari Film Festival che gli è stato consegnato. Ma oggi incontro con il pubblico e film in arena di nuovo per un attore, come è giusto che sia in un festival dedicato a Gian Maria Volontè. Ecco dunque il ritorno di Marco Giallini che aveva aperto il festival con The Place e che stamattina ha incontrato il pubblico per una masterclass sul suo mestiere. Se hanno talento possono pensare di farlo e quando ti dicono, vabbè ma lo devono dire gli anni, non è vero lo devono dire gli altri, perché tu lo sai se c'hai talento. Questo vorrei dire a un ragazzo o a una ragazza che si approcciano. Cioè io lo vedo, io lo sapevo, deve vedere poco, tanto quello che è, comunque il talento lo sai se ce l'hai. E stasera in arena presenterà Io sono Tempesta di Daniele Lucchetti, poi il festival si avvierà verso la chiusura, con una serata domani in cui sul palco saliranno Giovanna Volontè e Giovanna Taviani, ovvero le figlie di Gian Maria e Vittorio Taviani, a presentare Sotto il segno dello scorpione, il film che i due cineasti realizzarono insieme. Grazie a tutti.